Un'altra parte che è una, non è stata distrutta e non è che il palco di matposta, ma un grande occupa di sol, che si guarda la porta, la sospensione è toccata la sera, il mio arrivo è spaziano strano, soppie in tueva spaino, soppie in tueva spaino, soppie in tueva spaino, Grazie a tutti. Grazie a tutti.